Andiamo ad affrontare Brescia che è la terza forza del campionato, sta disputando una stagione veramente molto solida con una grande strisce di vittorie e una squadra che ha sicuramente in Mitrulong della Valle i due motori del gioco ma hanno un sistema sia offensivo che difensivo molto molto efficace. Hanno aggiunto di recente John Brown che è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni quindi ci attende una gara sicuramente difficile con grandi sfide individuali di squadra ma vogliamo farci trovare pronti per fare ancora meglio rispetto a quello che abbiamo fatto domenica contro la Fortitudo, spinti da una vettoria che ci dà grande morale anche perché abbiamo ancora un obiettivo da poter raggiungere e vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo.